...e anche lì bisogna sempre vedere il perché i malvagi e i cattivi fanno questa cosa. In realtà noi abbiamo memoria, vogliamo sensibilizzare su quello che è l'identità nazionale e il ricordo della nostra storia, per cui questo è sempre e solo il nostro obiettivo. Niente strumentalizzazioni, insomma... Non toccarmi mai! Non toccarmi mai! Vai là che io vado a dire guarda! Guardate! Non via, mi diamo la mano da lì! Vai via! Non toccate! Io sto ferma, voi state fermi, ok? Alzo le mani! Ok! Alzo le mani! Voglio essere... No! 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 Grazie a tutti.